Buonasera a tutti e benvenuti a cuore dell'età per la quarta rarraggio di Grimbo per il campionato nazionale di Serie A. E questo è l'ultimo impegno a Casalino per il 2017 per i ragazzi di Mr. Fettini e gli adversari di questa sera sono le prese delle vede per anni. Di mano e cuore le prese sono importanti che limitano il nostro osped, ma è pronto a votare il cuore sul campo per cercare la vittoria. Ringraziate come sempre il pubblico di Palla di Reda e il nostro sponsor, a cui amiamo a tutti i buoni divertimento e procediamo alla presentazione delle squadre. Alberi e Lea, numero 12, Raffa e Cristian, numero 16, Martinati e Stefano, numero 3, Noi Comincia, numero 6, Raffa e Max, numero 9, Lucca e Madness, numero 10, Sumanice e Neve, numero 11, Branche e Donas, numero 13, Strati e Vinci e Raffa, numero 15, Fronica e Alex, numero 20, Marco e Arnello, numero 27, Strati e Strati e Strati, numero 33, Strati e Raffa e Raffa e Raffa, Accogliamo adesso con l'entusiasmo della stessa nuova e presentiamo i ragazzi della Paglia Basta con il numero 48, Aracola Francesco, numero 55, Arbettino Andrea, numero 3, Lini Davide, numero 7, Lela Amato, numero 6, Arbetti Giovanni, numero 12, Lela Amato, numero 11, Lela Amato, numero 4, Arbetti Alessandro, numero 19, Lela Amato, numero 5, Marino Amato, numero 2, Mariano Amato, numero 22, Lela Amato, numero 18, Lela Amato, numero 10, Sardegna Eomar, numero 1, Lela Amato, 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 numero 1, Lela Amato Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.